I giornalisti in Italia li offendete voi perché i giornalisti in Italia si chiamavano pecorelli, quelli ammazzati dalla mafia, in passato quelli ammazzati dalla mafia, quelli erano giornalisti, voi siete solo servi del potere, punto. Mentre la campagna vaccinale acquisisce una ulteriore accelerata proprio in virtù dei provvedimenti del governo, si confonde tra la fola di piazza del Ferrarese a Bari quel paio di decine o poco più di no green pass che continuano la battaglia contro la certificazione verde rivendicando la libertà a non vaccinarsi e offendendo ancora chi per diritto o dovere di cronaca dal loro spazio. I manifestanti appartenenti al gruppo no green pass Bari hanno definito la misura introdotta dal governo come una limitazione imposta dal regime che va contro i diritti costituzionali, tanto da sostenere la proposta di una raccolta firme per un referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia. Di contro, dopo l'estensione dell'obbligo del green pass, vari hub segnalano un'accelerazione delle vaccinazioni. Allo stesso generale Filluolo, il commissario straordinario per l'emergenza, ha certificato il trend ma i manifestanti non demordono e annunciano che continueranno la loro battaglia fino a quando i provvedimenti non saranno cancellati.